Ciao a tutti, sono Salvatore Aranzulla e ho finito di presentare qui in Mondadori Tuscolana il mio libro, Metodo Aranzulla, pubblicato con Mondadori, sta andando molto bene, siamo una terza ristampa ed è un libro che raccolta nella prima parte la mia vita di giovani imprenditori del digitale e nella seconda parte invece fornisce degli strumenti a chi vuole creare un business online Invito chi vuole sapere un po' dietro le quinte della mia vita di aranzulla.it e di quella persona che trovate quando avete un problema sui motori di ricerca di fare riferimento al mio libro, Metodo Aranzulla Salvatore Aranzulla è un'ispirazione per giovani come me, a cui interessa l'informatica e si occupano di siti web e di tecnologia in generale quindi è stato molto interessante, è stato molto gentile e disponibile che ha spiegato tutto il percorso e ha dato degli attimi consigli per cui vuole seguire la sua stessa strada l'incontro è stato senz'altro positivo, ringrazio da Mondadori e anche ovviamente Salvatore Aranzulla per appunto aver sponsorizzato e promosso questo evento e questa iniziativa che è senz'altro utile alle persone che hanno letto il libro, che vogliono leggere e che si vogliono affacciare sul mondo dell'imprenditoria Sono venuta qui perché Salvatore Aranzulla è veramente un genio dell'informatica e credo che sono debitrice di diverse cene e tutti i problemi che è riuscita a risolvermi è una persona brillante e porta avanti una bellissima logica del fare attraverso la propria passione in questo caso l'informatica e magari poi la pasticceria Grazie per la visione!